Dopo il successo della Sagra del Vino del 13 agosto che ha registrato il soldato a Bivongi, l'amministrazione comunale e la Proloco sono già al lavoro per preparare la festa di San Martino che quest'anno registrerà la 31esima edizione. Una festa meno rumorosa della Sagra di agosto, più intima se vogliamo e più a contatto con la gente e in simbiosi con il caratteristico centro storico dove saranno aperti le antiche catoia. Promozione perciò del vino Doc, prodotto principe non solo della Vallata Stilaro ma dell'intera Calabria. Location della festa, come lo scorso anno, sarà il centro storico dell'area Batia dove sotto la volta della Via del Rione si celebravano le sedute del Consiglio Comunale e si risolvevano le piccole controversie tra cittadini. Alle ore 20 di giorno 11 è prevista la benedizione del vino Lavello in uno dei catoi del centro storico e poi il Via alla Festa per gustare i prodotti tipici accompagnati dall'unico Doc Rosso della città metropolitana di Reggio Calabria. Ristoratori del paese che presenteranno grigliate di carne, soppressate, frittole, baccalà fritto, peperonate, le immancabili zeppole, le verdure, i vari legumi, le calde arrosse e tant'altro. Il tutto in compagnia del vino Doc Bivongi. A coronamento della serata anche i dolci tipici tra cui quelli preparati con il mosto cotto. Mosto cotto ricordiamo alla base della Shirubet, il primo sorbetto della Vallata Stilaro preparato dagli Arabi. Una serata in ricordo anche a Martino, il santo, prima soldato, poi vescovo e missionario, la cui festa è associata alla motorazione del vino. Qui non è la solita festa come negli altri luoghi dove si celebra il solo vino novello. È un ringraziamento non solo al santo per le buone annate di raccolta, ma anche ai contadini che hanno creduto in questo prodotto tanto da renderlo famoso e far sì che a Bivongi venisse concessa l'etichetta di cittadina del vino. Vino di Bivongi che riporta la memoria alla Magna Grecia e alle prime viti quando la piggiatura avveniva a piedi nudi nelle vigne, posizionando l'uva su una delle grandi pietre inclinate. E ancora il convento dei Santissimi Apostoli del secolo XI, che era non solo la cantina per la cittosia di Serra San Bruno, essendo stato suo possedimento per 713 anni, ma che per la grande produzione lo commercializzava nel Mediterraneo così come il vicino monastero di San Giovanni Teristis. Ecco, cogliamo l'occasione per parlare delle viti, delle vigne che è qui nel monastero di San Giovanni Teristis del convento dei Santissimi Apostoli. Abbiamo Padre Nilo Vattopedino, artefice del ritorno dei monaci ortodossi in Calabria dopo lo scisma del 1054 che sancì la divisione delle chiese di Roma e di Costantinopoli. Padre Nilo fa parte della comunità ortodossa di Stilo. Diciamo che è stato, ripetiamo, l'artefice del ritorno a Bivongi al monastero di San Giovanni Teristis dei monaci ortodossi del Monte Athos. Ma ricordiamo anche che dopo qualche anno i monaci ortodossi del Monte Athos hanno riportato le tradizioni, non solo le tradizioni, ma hanno voluto riportare le viti del Monte Athos che hanno messo a dimora proprio al monastero di San Giovanni Teristis. Vedete alle mie spalle piccoli filari delle viti che hanno portato i monaci del Monte Athos quando si sono insediati negli anni 90. Padre Nilo Bivongi si appresta a festeggiare San Martino perché Bivongi è conosciuto come il paese, come la cittadina del vino, ma è un ricordo, un ritorno al ritroso nella storia da quando c'erano i monaci del Santissimo Apostoli e del monastero di San Giovanni Teristis che già coltivavano all'epoca, nel secolo XI, la vite, avevano la vigne, quindi commercializzavano anche questo vino. Un prodotto che ha reso Bivongi, ha dato una certa notarietà. C'è un monastero in queste nostre aree mediterranee che non abbia vigne e oliveti perché queste sono, diciamo, della tradizione che si è diffusa con il monachesimo e questo come la raccolta del grano avviene al tempo della mietitura e al tempo del mio grano di San Giovanni Teristis così la festa del vino è unita a questa piccola estate dell'estate di San Martino da quando il Santo Vescovo di Tours in Francia venerato nel mondo cattolico e ortodosso per avere dato il suo mantello ad un povero durante una fredda stagione come può essere lì già a novembre ecco che questa festa ci riporta alle nostre radici non è per i monaci la festa dell'ubriacatura ma della grande gioia, della grande gioia spirituale perché come dice il sacerdote benedicendo il vino il Signore del vino ha voluto che fosse che divenisse il sangue del suo figlio e Dio per questo noi siamo molto contenti e richiamiamo l'attenzione sul significato del vino il vino che come dice il salmista riscalda il cuore dell'uomo e il pane che ci rallegra il grano e tutti questi sono doni di Dio e dobbiamo rendere grazie per averceli donati così come li ha donati ai nostri padri il paese mantiene perciò viva questa tradizione inimitabile che si perde nei secoli ed è sempre meta preferita di turisti e gente dei paesi vicini perché qui non si inventa nulla ed è un vero tuffo nel passato